L'Unione fa la forza, grazie alle comunità energetiche rinnovabili. Un modello innovativo che consente la condivisione in modalità collaborativa dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Possono far parte delle comunità energetiche i cittadini privati, le imprese, gli enti territoriali, le autorità locali, gli enti religiosi e le associazioni. Nelle comunità energetiche ci sono i prosumer che producono, autoconsumano e immettono energia in rete e i consumer che contemporaneamente prelevano energia dalla rete. Unirsi a una comunità energetica non impone il cambio gestore e può offrire grandi vantaggi economici a tutti i componenti della comunità energetica, Sociali, perché promuove la collaborazione e crea valore per la comunità E ambientali, perché utilizza fonti rinnovabili per la produzione di energia Plenitude ti assiste in tutte le fasi, dalla fattibilità del progetto, all'installazione e a collaudo, fino alla manutenzione degli impianti e al monitoraggio delle dinamiche collaborative per tutta la vita della comunità energetica Entra a far parte di una comunità energetica e prendi parte a cambiamento insieme a Plenitude Grazie a tutti